Le Marche saranno la prima regione italiana a discutere la proposta di legge sul fine vita predisposta dall'Associazione Luca Coscioni per la totale applicazione e osservazione della sentenza cappato della Corte Costituzionale in merito a procedure e tempi per assistenza regionale e regionale al suicidio medicalmente assistito. Il gruppo assembleare del Partito Democratico ha infatti depositato l'atto a prima firma del capogruppo Maurizio Mangialardi affinché venga avviato al più presto l'iter in commissione. L'obiettivo è quello di evitare che si verifichi di nuovo quanto accaduto di recente con i casi marchigiani di Federico Carboni alias Mario costretto a un'attesa di oltre due anni del ferminianese Fabio Ridolfi che a causa dei ritardi dell'Asur Marche è stato costretto a ricorrere all'interruzione delle terapie con sedazione profonda e di Antonio che resta tutt'oggi in attesa delle comunicazioni del servizio sanitario regionale senza alcuna prospettiva sugli esiti delle verifiche già effettuate. La presentazione di questa proposta di legge nelle regioni Marche favorisce un cambiamento attivo sulla base di una sentenza costituzionale che deve essere applicata per garantire diritti a tutti. Partire dalle Marche, ringrazio il consigliere Mangialardi e il gruppo del PD, significa onorare anche Federico Carboni che ha atteso due anni, due anni per avere delle risposte che avrebbe dovuto avere nell'arco di 15-20 giorni e quell'attesa per una persona malata in quelle condizioni significa sofferenza. Ci sono libertà fondamentali che vanno riconosciute, applicate, la Corte Costituzionale l'ha fatto, soltanto che assistiamo a una disapplicazione per volontà politica che non trova riscontro nelle norme fondamentali di questo Paese. Il messaggio che deve passare è che certo in Parlamento stavano lavorando a un disegno di legge per il suicidio medicalmente assistito, ma di quel disegno di legge non abbiamo bisogno se non garantisce uguaglianza fra tutti i malati e c'è una sentenza della Corte Costituzionale che invece interviene e va applicata. Va applicata per tutti i malati che ne fanno richiesta. Un grande ringraziamento all'Associazione Luca Coscioni per averci messo a disposizione un testo che non solo è stato sottoposto all'Assemblea Legislativa delle Marche, ma a tutti i consigli regionali. Questo permette di completare la sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza Cappato, che ha grande efficacia ma non aveva la cogenza nei termini e nei tempi. Noi andiamo a completarla e penso che ci debba essere una convergenza di tutta l'assise perché questo protegge anche i dirigenti dell'Asur e evita denunce come sono purtroppo accadute in queste situazioni e in questi anni.